Andiamo a raccontare, a parlare di un'attività che in canavese è conosciuta e praticata da tanto tempo, ovvero le bocce. Poi noi siamo in un paese dove si soccorrono i vincitori, cioè basta perdere una cosa che sei più nessuno. Nelle bocce poi con una mentalità antica, questo vale ancora, vale nel calcio, vale tutto, ma è una mentalità. L'obiettivo è sempre che si cerca di vincere, ma più che altro si cerca di fare squadra. Il nostro obiettivo principale credo sia fare squadra. Io quello che ho sempre chiesto a loro e quello che mi hanno sempre dato, che abbiamo sempre fatto in quadrata, abbiamo sempre fatto squadra. Cioè si vinceva tutti e si perdeva tutti.